Buongiorno raga, qui è come andrei in video e bentornati in un nuovo sul canale e quest'oggi siamo qui ritornati per un nuovo episodio di Fortnite salva il mondo. Se vi siete persi l'episodio precedente dove abbiamo fatto l'obiettivo hashtag resist, il video ve lo lascio in alto a destra nelle schede. Prossimo obiettivo, la quarta difesa dello Storm Shield di Plankerton. Dobbiamo installare il terzo amplificatore. Facciamo, mappa, Plankerton, Storm Shield, mio Storm Shield, lancia. La rozza è pronta, allora noi andiamo. Ecco qua. Ma che parte... allora, questo non mi fido molto. Che ho già detto la posizione. Infatti ho già detto me. Questo va già meglio. Adesso pensiamo a costruire le difese e a piazzare le trappole. Le difese costruite... Anzi, prima che mi dimentico... Rimpiazziamo... Quelle dello Storm, sempre perché sono di livello basso. E raga, siamo pronti all'obiettivo. Si va! Lo Storm Shield dalla Nord. Sono 75. Prossimo. Appubicatore B da Ovest. Sono due minuti e mezzo. Cosa è che arriva? Sembra niente di che. A... A da est. Cento nemici. Cos'è che arriva? No, niente di che. Non c'è niente di grande. Il Slinger però no! Il Slinger non è piccolo per niente. È anche pericoloso perché non ho le antiaeree. Di... Da... Nord. Le teste calde E gli spara laser Fatto Ho dovuto cominciare a usare a ramjet Oh, taker, flinger e smasher ho fatto fuori Fate qualcos'altro se vuoi Ah no, c'era anche lo spara laser Di questo monster Comunque la rossa con i ramjet in mano Fa vedere quanto sia temibile Quasi livello 5 Quattro mini lama E' un sacco di xp Nice work We just opened up a huge region of Plankerton And just in time Commander, you might want to tune into our broadcast And we are mere moments away from flipping the switch That will double our broadcast radius And thanks to Ray and her blue glow wizardry Our signal will now reach the entire Plankerton area Isn't that great news? Survivors will be filling our shelters in no time Check it out, we've got a full shelter And another Oh, and a third And they're under attack Haha lol We better get moving Esatto Come ha detto Ray adesso Bisogna fare una missione di evacuate shelter Evacua il rifugio E si sale ancora di difficoltà Non più 28 Ma 34 Poi si continua ad andare in su Vediamo un po' Eh sì Questa sarebbe 34 34 34 34 34 Si sale di livello Vabbè Episodio è terminato Lo faremo nel prossimo Questo qua Skelter Skelter Non so se è voluto la La somiglianza delle parole Ma vabbè Ci vediamo nel prossimo episodio